Ben trovati in nuovo faccia a faccia con i consiglieri provinciali, in questo caso diamo il bentornato nei nostri studi a Mario Tonina, bentornato, grazie a lei per essere intervenuto e subito allora a caldo un tema che da poco lei ha affrontato, che è quello dell'agricoltura, più nello specifico quale agricoltura dopo il 2020, perché bisogna porsi anche delle domande, diciamolo pure a medio-lungo termine in questo caso ne avete parlato di recente a Denno, in bassa valle di Non, in un contesto che è il più indicato e logico che è quello di un magazzino ortofrutticolo, con personalità di spicco e per capire proprio questo, dove si va dopo il 2020 Tonina? Ecco, questo è stato un appuntamento, io direi importante, che l'Unione per il Trentino ha voluto organizzare la scorsa settimana in quel di Denno, ma anche un mese fa alla Vis per quanto riguarda il turismo. Questi sono due settori importanti e strategici per il Trentino, agricoltura e turismo, che devono andare assolutamente a braccetto. Il fatto di aver organizzato la scorsa settimana questo importante incontro alla presenza dell'onorevole Paolo De Castro, profondo conoscitore dei problemi legati all'agricoltura, lui è stato più volte ministro, è stato presidente della Commissione Agricoltura a Bruxelles, in questo momento è vicepresidente, ma assieme anche all'onorevole Dorfman si stanno fortemente impegnando per promuovere e per sensibilizzare a livello comunitario quelli che sono i problemi legati all'agricoltura. In quell'occasione è stato un momento, ripeto, importante, di grande partecipazione, erano presenti più di 150 persone, ma non tanto il numero, ma qualificata la presenza stessa e dove ognuno ha cercato anche di portare un contributo. Ma la relazione dell'onorevole De Castro credo che è stata significativa anche per fare il punto a metà percorso anche di quello che è il PSR 2014-2020, ma per cercare anche di creare i presupposti per quella che sarà la politica comunitaria dopo il 2020. Qual è il rischio attuale oggi? Ma il rischio attuale dobbiamo assolutamente tenerlo presente e io porto sempre questo esempio. Nel resto d'Italia, in modo particolare nell'arco alpino, oggi c'è stato un abbandono per quanto riguarda l'agricoltura in montagna. L'abbiamo anche così potuto verificare da quel libro presentato lo scorso anno a Roma, La montagna perduta, dove territori come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, in parte sono stati abbandonati. E questo perché? Perché la politica non ha avuto un'attenzione particolare per quei territori, in quanto ha prevalso l'interesse per la pianura. Cosa che invece fortunatamente per il Trentino e per l'Alto Agis, e questo non è stato, in quanto c'è sempre stata una sensibilità, un'attenzione da parte della politica anche con degli aiuti importanti e per garantire agli agricoltori stessi, sappiamo fare agricoltura in montagna è difficile, è penalizzante, poterlo fare invece con la giusta dignità. Quindi ovviamente mantenere l'agricoltura in montagna vuol dire mantenere una risorsa comunque economica fondamentale, ma vuol dire anche mantenere le popolazioni in quei luoghi. Certo, certo, e questo è emerso chiaramente all'interno, in quell'occasione, in quel convegno, ma anche con un impegno chiaro e preciso che attraverso un regolamento, regolamento omnibus, del quale Paolo De Castro è relatore e questo verrà approvato nell'autunno di quest'anno, entrerà in vigore nel primo gennaio 2018, questo anticiperà anche quelle che saranno decisioni per la prossima politica comunitaria, tenendo presente innanzitutto la gestione del rischio, cercando proprio di garantire e stabilizzare il reddito degli agricoltori, abbiamo un esempio molto chiaro e lampante di quello che sono stati le gelate, i problemi che le gelate hanno creato quest'anno a numerosi fruttetti, vigneti del nostro Trentino, fortunatamente da noi, diciamo che anche con la presenza del Codipra, sta dando e sta dando anche delle garanzie da questo punto di vista, ma soprattutto una cultura anche importante da parte degli agricoltori stessi, di non lasciare nulla al caso, ma di prevenire anche quelli che sono questi grossi problemi. Allora nel regolamento omnibus saranno tenute in considerazione sicuramente queste problematiche, ma anche con un'attenzione nei confronti dei produttori di latte, questo è solo un anticipo. Poi credo che quello che deve essere un po' anche la responsabilità di chi fa politica, a cominciare quindi da tutto il Consiglio provinciale, perché su tematiche problematiche come quelle legate all'agricoltura è importante trovare una trasversalità all'interno del Consiglio e quindi anche l'impegno, il nostro contributo che abbiamo voluto dare in occasione di quel convegno vuole essere quello di scrivere anche, di produrre un documento che possa essere utile alla coalizione di centro-sinistra autonomista. Da questo punto di vista sinteticamente a che livello è il Trentino? Ma da questo punto di vista credo che il Trentino è sicuramente messo meglio di tante altre realtà, ma questo anche per un percorso che è stato fatto anche la volta scorsa. Io ricordo benissimo che ancora 6-7 anni fa, con l'allora assessore Tiziano Mellarini, il quale ha creato anche un percorso assieme ai colleghi di altri territori di montagna, proprio per costruire un percorso che potesse portare ad un riconoscimento di quello che è il ruolo dell'agricoltura di montagna. Questo è stato fatto, la politica agricola comunitaria, proprio in quel PSR, ne ha saputo tenere in considerazione e altrettanto si deve fare in questo momento, riuscire proprio a produrre documenti, ma soprattutto riuscire a mantenere relazioni con altri territori, fare quindi lobbying all'interno di queste problematiche che, ripeto, sono simili, per avere il giusto riconoscimento in quel di Bruxelles. E credo che gli europarlamentari, sia l'onorevole Doffman che l'onorevole De Castro, possono essere di grande aiuto a queste problematiche, a questi interessi comuni ai territori di montagna. Tonina, mi perdonerà, ma in chiusura vorrei farle cambiare argomento. Abbiamo una domanda rivolta da un giovane, allora gliela farei ascoltare. Data l'importanza delle lingue straniere e dell'avvio del progetto per il telelinguismo, e pensate di continuarlo e potenziarlo? Forse in qualche maniera anche ci si accollega, perché comunque il confronto a tutto tondo ci porta anche a parlare altre lingue, no? Questa è una domanda importante fatta da un giovane, alla quale il Trentino ha già iniziato in questa legislatura cercare di dare delle risposte attraverso il disegno di legge della buona scuola, previsto appunto che è stata approvata recentemente, proposta dal Presidente Rossi. si sta andando in quella direzione e credo che ogni azione meriti la giusta attenzione per garantire, favorire in modo particolare ai giovani che hanno voglia, che hanno interesse anche di fare nuove esperienze, ma soprattutto di imparare le lingue, bisogna creare i presupposti. Io ho presentato recentemente proprio una mozione che va in questa direzione per favorire anche i percorsi alternanza scuola-lavoro, in modo particolare all'estero. Credo che questo sia un modo intelligente, ma un modo anche responsabile di chi oggi fa politica, di garantire futuro ai giovani e che deve passare sicuramente anche attraverso il trilinguismo e quindi questa impostazione, questo lavoro che è iniziato, troverà i frutti sicuramente nei prossimi anni. Ringraziamo Mario Tonina per essere stato con noi allora, buon lavoro ancora per il proseguo. Grazie ancora a voi. Manca poco più di un anno insomma alla fine della legislatura, quindi un ultimo rush e avremo ancora modo di confrontarci sicuramente nelle prossime puntate. Grazie ancora e grazie a voi per averci seguito.